L'Overso è stato arrestato dagli agenti di polizia a settembre del 2022, accusato di aver abusato di una 29enne conosciuta in una delle piazze più frequentate della movida palermitana. L'uomo si era offerto di darle un passaggio fino a casa, ma una volta giunti nei pressi di via Ugo Lamalfa, avrebbe cambiato direzione di marcia per fermarsi in una strada buia, dove avrebbe costretto la donna ad avere un rapporto sessuale completo. Alla vittima, che si era costituita parte civile nel processo, è stata riconosciuta una provvisionale immediatamente esecutiva. Il danno definitivo sarà quantificato in sede civile. Oltre alla condanna per l'imputato è scattata la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Oggi la giovane donna, spiega l'avvocato che l'ha difesa, Mariangela Cicero, ha seguito degli eventi che l'hanno gravemente segnata. Ha dovuto lasciare la terra dove ha sempre vissuto, ma certamente il suo atto di coraggio nel denunciare ha consentito di fare giustizia. La difesa di Loverso ha preannunciato ricorso in Cassazione.